L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Mirian Ciobano, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari, l'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km orari. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione. In particolare è stata contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km orari, in un tratto in cui vigeva il limite di 60 km orari, per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato è stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il primo di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba, il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1.33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che lui non possa succedere, ma può succedere a tutti.